Se si desidera eseguire un backup di un sito in ePassan Manager, si inizia facendo clic sul pulsante Strumenti, quindi sull'opzione Backup ripristino dati in alto. A questo punto cliccate su Aggiungi un sito al backup e selezionate il sito di cui volete fare il backup dall'elenco dei siti disponibili. Quindi fare clic su Esegui backup. Il backup inizierà a essere scaricato e salvato nei file locali. Infine, fare clic su OK al termine del download.